Musica Amici di Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì Pasquetta che vedrà una zona di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale avvicinarsi lentamente all'Italia quindi tempo purtroppo che torna a peggiorare. Lo vediamo anche dalla nuvolosità prevista sulle nostre regioni, sin dal mattino nuvole diffuse sul nostro paese anche se inizialmente sarà una nuvolosità alta di poco conto, lascerà spazio anche a qualche parziale schiarita invece nel corso del pomeriggio e della serata nubi sempre più compatte e in effetti se controlliamo le precipitazioni previste sull'Italia nella prima parte della giornata poco o nulla da segnalare poi piano piano nel pomeriggio ecco arrivare le prime piogge partono dal Tirreno e a fine giornata raggiungono un po' tutto il paese quindi in definitiva ci attende una Pasquetta comunque piuttosto nuvolosa anche se ripeto le piogge arriveranno solo a partire dal pomeriggio ancora più della sera piogge inizialmente sulle regioni tirreniche poi piano piano vanno a prendere tutto il centro nord ma coinvolto in parte anche il sud peninsulare infine attenzione allo scirocco soffierà forte nelle regioni centro-meridionali per dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo Grazie a tutti